Sennò dopo, vai con il ciocco, vai con il ciocco, allora il ciocco invece, ciocco, allora il tizio entra in chiesa e va andassi a confessare, arriva al confessionale, se in ginocchi ha il prete dentro, apre la tendina come la tendina, Mario, Antonio, non ce posso credere, ma lui tu sei, escono da fuori, si abbracciano, dice ma quanto tempo vuoi è passato, ma può essere che sei diventato prete, ma te come all'unità, quando andavamo ai superiori eri il più sovversivo di tutti, andavi con l'unità in tasca, mo sei diventato prete, e dice, stai, le cose che cambiano, c'è avuto un'illuminazione, ma tu piuttosto parlami, dite che fai, anzi no, non metti niente, indovino io, tu eri il più secchione della classe, minimo sarà diventato un ingegnere, un dottore, dice no, guarda, non puoi capire, non indovinarai mai quello che faccio, dice che fai io, faccio la roba dal circo d'olio, ma che è stato, ma tu avevi l'insufficienza a educazione fisica, non riuscivi neanche a fare la capriola, mo fai l'agro, te giuro, faccio la roba dal circo d'olio, no, non ce credo, e mo te faccio vedere, se l'hai va la giacca, via, fa un sarto mortale e monta sopra l'artare, da sopra l'art indietro si attacca al crocefisso, a riserta giù, a un certo punto entrano due vecchiette, te trovano il prete davanti al confezionale così, questo che saltava da una parte all'altra gli fa, ma Marin se confessiamo guardi il penitenzo che toccava oggi